Ciao a tutti, ciao a tutti, seconda puntata del video dedicato ai regali di Natale vi stavo mostrando nell'altro video, ho raggiunto il limite possibile di registrazione del cellulare mi dispiace quindi dovrò fare due video dedicati ai regali nel primo mi sono concentrata soprattutto su tutti quanti i regali che mi hanno fatto Martina e Titiana e vi stavo mostrando quando il cellulare mi ha bloccato questa spezia buonissima che mi ha riportato mia cugina Daria da Gaza, mi ha fatto un regalo veramente meraviglioso ha una profumazione buonissima, è a base di timo, sesamo e c'è un'altra erba che non so qual è sinceramente infatti vorrei cercarlo un attimo su internet perché non so se è possibile accorifarlo, mi piacerebbe ho fatto una pausa da metà gennaio perché stavo praticamente, stavo abusando di questa spezia perché è veramente buonissima, mi piace da morire e ha avuto un pensiero veramente meraviglioso nel riportarmi questo prodotto tipico e poi mi ha fatto un super regalo super inaspettato, sono rimasta a bocca aperta quella pazza di mia cugina mi ha regalato il gelsomino indiano, è un fracone da 100 ml ha detto guarda mi sono informata prima di farti questo regalo quindi probabilmente avrà visto in qualche video il fatto che mi piace tanto questo profumo mi fa pensare troppo alla formazione yoga dell'anno scorso ha carico proprio di un'emotività pazzesca per me, ha un pathos questo profumo a lei non piace, gliel'ho fatto provare e ha detto no no non è proprio un profumo per me è un profumo un po' tra virgolette da anziana però in realtà ci sento un qualcosa di... è vero, è un profumo forte, è un profumo pesante è un profumo invadente, è un profumo carico però allo stesso tempo ci sento... è proprio un mistero un mistero che lo avvolge e lo associo troppo a quei mesi di studio a quei mesi in cui mi sono dedicata tantissimo alla pratica dello yoga l'anno scorso e soprattutto da febbraio in poi io questo l'ho utilizzato fino a quasi l'estate cioè è stato proprio un profumo che mi ha accompagnato durante tutta la formazione dell'anno scorso ora sto al secondo anno e devo dire che appunto rappresenta proprio questo coinvolgimento emotivo di testa, cuore e corpo appunto nel dedicarmi a questa disciplina in modo così intenso e veramente sentito quindi per me è un profumo veramente super speciale quindi grazie Daria perché mi ha fatto un regalo meraviglioso poi velocemente perché ho la batteria scarica da Luigi, mi sono fatta regalare Luigi, ma che vuoi regalare? come vi dico sempre, che vuoi? che vuoi? ho scelto questo regalo che è un libro di Ray Long che è un approccio scientifico alla pratica dello yoga sono i muscoli chiave dello yoga guida all'anatomia funzionale dello yoga del dottor Ray Long ci sono delle illustrazioni bellissime di ogni posizione vi dice quali sono i muscoli che vengono utilizzati a che cosa serve quella posizione e spiega proprio a livello anatomico che cosa fa il corpo quali sono i muscoli che si contraggono, quelli che si distengono gli antagonisti sinergici l'azione, il risveglio insomma la biomeccanica delle varie articolazioni del ginocchio è veramente un bel libro quindi grazie Babbo Natale e poi mi ha fatto la sorpresina perché quando sa che il regalo so qual è perché l'ho scelto io mi fa sempre una sorpresina Luigi e questa cosa mi piace tantissimo mi ha regalato questo piccolo cofanetto di legno meraviglioso con dentro matite e tutto quello che serve per disegnare a matita a carboncino è tantissimo che non disegna matita a carboncino è veramente tanto 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 alcuni prodotti non li hanno neanche mai utilizzati in vita mia quindi sono veramente curiosa già l'altra volta mi sono messa un po' un paio di settimane fa anche se in questo periodo avevo un po' più approcciato all'acquerello però sono contenta di avere delle matite e di poter riprovare a disegnare un po' a matita fare ritratti o altre cose perché è tanto che non disegno poi gli ultimi due regali sono questa combinazione di prodotti Codalì ve l'ha regalato la sorella di Luigi questa è la crema Mani e il burro labbra e questi sono quelli che ho io in borsetta stavano in questa confezione meravigliosa ve la rimonto così vi faccio vedere più o meno com'era la situazione oddio com'era la situazione forse è così non mi ricordo come stavano però era veramente carina questa confezione piccina e super super bella ecco forse ci sono riuscita era una confezione piccina proprio carina questa qua è nutriente, riparatrice poi vi farò la recensione di questa combinazione di prodotti è una borsina che non ho preso è una borsina che diventa grande è tipo borsa per la spesa con il nome Giulia è una frase dedicata al mio nome invece l'altra sorella di Luigi mi ha regalato una canottierina intimissimi che però ho cambiato perché il colore non mi stava molto bene era un colore che mi sbatteva un po' anche se in realtà la canottierina era bellissima e poi due regali che mi hanno fatto i miei genitori questo è un pile che in realtà avevo scelto io che mi avete visto nell'altro video qualcuno di voi mi ha detto che gli è piaciuto sono contenta a me piace tantissimo perché non è una vera e propria pelpa è un pile però non è super sportivo perché ha questa fantasia con i fiori che a me piace tantissimo mi sta piacendo tantissimo il rosso il rosso, il vinaccia un colore che ho indossato poco in realtà sono sempre andata più sul prugna viola, borgogna però ecco questi colori insieme mi piacciono tantissimo mi piace tanto questa fantasia e poi la lampada di sale che abbiamo all'ingresso che in realtà l'avevo acquistata io proprio ho detto no no vabbè quella te la regalo io e quindi alla fine sono stati i regali dei miei genitori io penso più o meno di avervi fatto vedere tutto spero di non aver dimenticato qualche regalo ma non credo e niente vi saluto con un bacio grandissimo ringrazio tutte quante le persone che mi hanno fatto questi regali meravigliosi e se vi va supportatemi con un like ed iscrivetevi al canale se vi fa piacere in modo da non perdere i miei video e vi aspetto nei commenti per uno scambio così di pareri, opinioni pensieri se vi va mi potete anche dire che cosa avete ricevuto per Natale ok vi mando un bacio grande ciao e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie.